Roberto Ianes, la tua clessidra con la tartaruga? Poi si pensava che la tartaruga, i suoi gesti del pianeta e la seconda opera invece appresenta una macchina di caffè, una pausa caffè, è un momento di riflessione, una pausa in cui si riprende tutta l'evoluzione dell'uomo, e poi ci sono le prime coltivazioni industriali fino a un futuro ignoto.